Let Expo. Let's be sustainable. Green e blue economy per una vera sostenibilità ambientale. Sviluppo dell'intermodalità sostenibile, inclusione, formazione giovanile e professionale per il mondo del lavoro di domani. Molto più di una fiera. Ti aspettiamo a Verona dal 16 al 19 marzo. Scarica il tuo biglietto omaggio su www.letexpo.it L'Unione Europea pronta ad inasprire le sanzioni contro la Russia, Mosca avverte. Nostra risposta rapida e mirata, ma poi apre. Non vogliamo rovesciare il governo ucraino. Siamo aperti al dialogo, ma Kiev riconosca il Donbass sovrano. La Cina attacca, Nato e USA responsabili del conflitto. Nuova tregua per l'evacuazione dalle città, ma a Mariupol sono 1200 civili uccisi sotto i bombardamenti. Elevata incertezza sulla ripresa economica italiana, all'Istat il caro energia potrebbe costare 0,7 punti sul PIL 2022. In netto calo la produzione industriale, a gennaio meno 3,4% su base mensile. Sprint delle borse europee. Piazza Fari guadagna circa 7 punti. Il Brent tocca i 130 dollari al barile, poi ripiega. Prezzo del gasolio alle stelle. L'AIE è pronta a rilasciare più scorte. L'agenzia Fitch, Russia, a rischio default. Draghi alla camera sul conflitto ucraino. Emergenza umanitaria senza precedenti. In Italia già 24.000 profughi. E sulla crisi energetica, i 16 miliardi a sostegno di famiglie e imprese non bastano. Il Covid rialza la testa. Contagi in risalita con l'indice RT di nuovo vicino all'1. Calano i ricoveri. Il sottosegretario Costa anticiperemo l'allentamento delle restrizioni verso la normalità entro l'estate. Nuove nomine per le autorità di sistema portuale italiane. Francesco Di Sarcina sarà il nuovo presidente della DSP del mare di Sicilia orientale. Vincenzo Garofalo guiderà l'autority del mare Adriatico centrale. Buonasera. L'Unione Europea inasprisce le sanzioni contro Mosca. Gli ambasciatori degli stati membri hanno oggi aggiunto 160 nomi di dirigenti oligarchi russi nella black list dell'UE. Tra le misure approvate è anche l'esclusione di alcune banche bielorusse dal sistema SWIFT. Ha completato l'elenco delle tecnologie e dei beni che non possono essere esportati in Russia e sono state inoltre stabilite sanzioni anche nel settore marittimo. Ieri intanto gli Stati Uniti hanno annunciato il divieto di importazione di petrolio russo scatenando un'immediata reazione di Mosca. Gli USA hanno dichiarato guerra economica alla Russia, ha affermato oggi il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov. Joe Biden alza il tiro e dopo aver affossato il Nord Stream 2 inasprisce la guerra energetica con Mosca, colpendo la maggiore arteria dell'economia russa per dare un altro potente colpo alla macchina da guerra di Putin contro l'Ucraina. Dalla Casa Bianca, indossando una cravatta con i colori ucraini, Il presidente ha annunciato un ordine esecutivo che vieta l'impor negli Stati Uniti di petrolio, gas e carbone russi, oltre a nuovi investimenti americani diretti o indiretti nel settore energetico in quel paese, mentre tutte le measure si sono già ritirate. Putin non vincerà, potrà conquistare alcune città, ma non un intero paese, ha monito il comandante in capo sottolineando che, oh, grazie all'onda d'urto delle sanzioni, il rublo vale meno di un penny. Una mossa emulata da Londra, che si è impegnata ad azzerare le sue forniture di gas e petrolio dalla Russia, già entro la fine del 2022, mentre secondo i media giapponesi anche Tokyo sta studiando una misura analoga. Mosca ha risposto subito con la minaccia di una rappresaia. In caso di un embargo petrolifero abbiamo tutto il diritto di prendere una decisione corrispondente e imporre un embargo sul pompaggio di gas attraverso il gasdotto Nord Stream 1, tagliando così l'approvvigionamento dell'Europa, avvisato il vicepremier russo Novak. Poi lo zar ha gelato tutti, firmando un decreto che dà mandato al governo di stilare entro due settimane in una lista di paesi per i quali saranno vietati i movimenti di export e import di prodotti finiti e materie prime per salvaguardare la sicurezza della Russia. Dalla Russia sono giunti oggi anche segnali di apertura al dialogo. Non puntiamo a rovesciare il governo di Kiev, ha dichiarato la portavoce del ministro degli esteri russo Maria Zakharova, sottolineando come ci siano stati progressi nei negoziati. La Russia vuole tenere colloqui con l'Ucraina il prima possibile, ha fermato invece il portavoce del Cremlino Peskov, ribadendo tuttavia che Kiev dovrebbe riconoscere l'indipendenza delle repubbliche di Donetsk e Lugansk. La Cina ha puntato oggi il dito contro le sanzioni imposte dagli Stati Uniti. La questione ucraina è molto chiara, ha dichiarato il portavoce del ministro degli esteri cinese Zhao Lijian. Sono state le azioni della Nato, guidata dagli Stati Uniti, a spingere gradualmente il conflitto Russia-Ucraina. Intanto, nonostante il cessate e il fuoco di diverse ore concordato per la giornata di oggi tra Kiev e Mosca per consentire l'evacuazione dei civili, nel paese proseguono i bombardamenti e l'emergenza umanitaria si fa di ora in ora più grave. Secondo alcune fonti, sarebbero oltre 400.000 le persone bloccate a Mariupol. Almeno 1.170 i civili rimasti uccisi, colpito anche un ospedale pediatrico. La crisi umanitaria è senza precedenti, ha affermato oggi il premier Mario Draghi. In Italia sono arrivati quasi 24.000 profughi, oltre il 90% sono donne e bambini ed il flusso è destinato ad aumentare. Secondo l'Unicef, la metà degli sfollati in fuga dall'Ucraina sarebbero bambini, mentre a molti di quelli che rimangono nel paese iniziano a mancare cibo e medicine. Un soffice e caldo berrettino di lana contro il gelo dell'inverno ucraino. A volte un peluche, poco altro, inermi. Davanti agli occhi sbigottiti del mondo sfilano i bimbi ucraini in fuga dalla barbarie dell'aggressione russa. Lungo le strade di un paese è diventato una trappola, attraverso i confini polacchi, moldavi, romeni, dove le bombe non possono arrivare. Sono un milione, il 50% dei profughi scappati finora dalla guerra. Un numero difficile anche solo da immaginare, un esodo inconcepibile in Europa fino a pochi giorni fa. Una buia prima volta nella storia, ha scritto su Twitter James Helder, portavoce di Unicef, annunciando che un milione di bambini sono scappati dall'Ucraina in meno di due settimane. Dalle immagini tv, dai video, dai social, dalle foto dell'orrore censurate solo dai media di mosca e di qualche residuo alleato, i piccoli profughi imbacuccati ci guardano con gli occhi sgranati dalla paura, ma anche da quella curiosità di bambini che non viene mai meno. Sbattuti fuori in un crescendo dell'orrore prima dalle proprie case, poi dalle cantine e dai sotterranei delle metro e spesso anche da quelle auto intrappolate in una fila troppo lunga per raggiungere la frontiera più vicina, è difficile vederli piangere. I neonati tra le braccia delle mamme perché i papà sono rimasti a combattere, i più grandi a piedi, per decine di chilometri, i più fortunati in macchina, almeno per alcuni tratti. Una delle istantanee di una guerra di cui i bimbi stanno diventando il simbolo. Torniamo alle sanzioni adottate dai paesi occidentali contro Mosca con l'agenzia Fitch che ha tagliato ulteriormente il rating sovrano russo, prevedendo il rischio di un imminente default. Ma gli effetti delle sanzioni finanziarie ed economiche intraprese in questi giorni rischiano di ripercuotersi negativamente anche sulla ripresa economica italiana. Secondo le stime dell'Istat, l'impatto dello shock sui prezzi dei beni energetici peserà circa 0,7 punti percentuali sul PIL nel 2022. A confermare l'elevata incertezza, le parole del vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Valdis Dombrovskis. La guerra in Ucraina, ha dichiarato oggi, porterà un aumento dell'inflazione, una maggiore pressione dei rincari energetici e una volatilità del mercato e ci sarà un chiaro impatto sulla crescita. Sulla stessa linea anche il commissario UE agli affari economici, Paolo Gentiloni, che ha rivisto le previsioni del PIL inferiori al 4% per quest'anno. Dobbiamo intervenire, dobbiamo agire per evitare che la ripresa possa deragliare completamente ed evitare il rischio delle divergenze fra gli stati membri, perché sappiamo che queste crisi, soprattutto per quello che riguarda ad esempio quella dei rifugiati, dei profughi, ma anche per quello che riguarda l'approvvigionamento energetico, rappresentano degli shock esterni che potrebbero avere delle conseguenze asimmetriche. E su questa base lavoreremo per cercare di reagire in maniera adeguata. Giornata decisamente positiva per le borse europee. Oggi in forte rialzo sulla scia dei tentativi diplomatici in corso per raffreddare la tensione sul conflitto in Ucraina. Piazza Affari ha guadagnato circa 7 punti. Dopo la decisione di Stati Uniti e Gran Bretagna di evitare le importazioni di petrolio russo, il Brent ha toccato in giornata i 130 dollari al barile per poi ripiegare. Intanto l'AIE, l'Agenzia Internazionale dell'Energia, ha comunicato oggi di essere pronta a rilasciare sul mercato ulteriori scorte petrolifere, presentando già la prossima settimana uno specifico piano d'azione per ridurre il costo del greggio, soprattutto nel settore dei trasporti. In Italia intanto continua a salire il prezzo dei carburanti alla pompa con il diesel in particolare, che ha registrato un incremento di 10 centesimi al litro, avvicinandosi in modalità servito ai 2,1 euro al litro e superando in alcuni distributori il costo della benzina. Non si fermano le brutte notizie per gli automobilisti al distributore di benzina. Con la corsa dei prezzi dei carburanti, che ormai sembra inarrestabile, i listini della verde sono arrivati addirittura a sfondare la soglia dei 2 euro al litro, con pesanti ripercussioni non solo per le tasche degli italiani, che si spostano in macchina o in moto, ma anche per la filiera produttiva. Tanto che il settore della pesca ha avviato ufficialmente uno stato di agitazione. Il ministro delle politiche agricole, Stefano Patuanelli, ha quindi chiesto un incontro al ministro dell'economia Daniele Franco e al ministro per la transizione ecologica Roberto Cingolani, per affrontare il tema, e anche il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile Enrico Giovannini ha assicurato che il governo affronterà il problema. Le rilevazioni diffuse da Quotidiano Energia, in base ai dati comunicati dai gestori all'osserva prezzi carburanti del Mise, suonano un po' come un bollettino di guerra. Oggi un litro di benzina costa in media il 28% in più, mentre per il gasolio si spende addirittura il 32,4% in più, e questo significa che per un pieno di verde occorre mettere in conto una maggiore spesa da 21,9 euro, mentre un pieno di gasolio è rincarato di 23,2 euro. Il tema dei rincari energetici è stato ampiamente affrontato oggi dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso del Question Time alla Camera. Seguiamo con grande attenzione le conseguenze della crisi in Ucraina, ha dichiarato il Premier. Dobbiamo muoverci con rapidità e decisione. Continueremo a sostenere il nostro sistema produttivo. Draghi ha inoltre evidenziato che le risorse finora stanziate, ossia 16 miliardi fino al secondo trimestre dell'anno, non sono sufficienti. Le recenti tensioni geopolitiche rendono ancora più urgente investire nella transizione ecologica, ha continuato il Presidente del Consiglio. Sulla crisi energetica e la transizione ecologica, essenzialmente la risposta è la diversificazione puntando sulle energie rinnovabili. Sul punto Draghi ha ribadito che il principale ostacolo all'espansione delle energie rinnovabili è rappresentato dai procedimenti autorizzativi. Infine, per quanto riguarda l'attuazione del PNRR, secondo il Premier è prematuro valutare una revisione del piano. È chiaro che molte delle regole che ci hanno accompagnato in questi anni devono essere rilette, ha poi affermato il Premier, riferendosi alle norme europee sul patto di stabilità. Per discutere sulle ripercussioni dei ricari energetici, in particolare per il settore del trasporto e della logistica, è in collegamento con noi il Direttore Operativo di Pesci e Attrezzature Stefano Quarena. Direttore, buonasera. In che modo l'aumento dei prezzi dell'energia, in particolare il caro carburante, sta impattando sul settore del trasporto e della logistica e sull'attività della sua azienda? Oggettivamente questa situazione si ripercuote in maniera fortissima sul nostro comparto, causando al di là degli aumenti di listini che ormai sono fuori controllo, per cui non siamo in grado oggi di fare delle preventivazioni a un cliente che possono durare più di sette giorni e quindi c'è un continuo aumento dei costi. Proprio la riperabilità del prodotto, abbiamo in alcuni casi alcune famiglie di prodotto che sono arrivate anche a 30 settimane di attesa per la consegna. Quindi è vero che la nostra azienda lavora sempre con un concetto di just in time, quindi di avere dello stock disponibile, ma è anche vero che lo stock disponibile non può essere enorme perché chiaramente è un'immobilizzazione finanziaria. E poi di conseguenza i nostri clienti che fanno manutenzione ai mezzi si trovano comunque con le difficoltà dei trasportatori che avendo avuto un aumento dei costi così importante soprattutto sul gasolio, chiaramente anche l'aspetto delle manutenzioni se non è proprio indispensabile farla, chiaramente tendono a rimandarla perché sono costi aggiuntivi e di conseguenza andiamo a impattare anche sulla sicurezza del trasporto. Ecco, secondo lei quali strumenti e quale misure dovrebbe introdurre il governo a sostegno del settore? Sicuramente una mossa che potrebbe dare un minimo di respiro in questo momento è la sospensione delle accise e dell'IVA sui carburanti almeno fino al cessare delle tensioni con la Russia. È chiaro che io banalmente stamattina mi sono fermato a fare gasolio nella mia automobile, gasolio è 2.2, cioè è insostenibile questo costo già per le famiglie, figuriamoci, per i trasportatori. Quindi da questo punto di vista sappiamo bene da che cosa sono composti i costi del carburante in Italia. Una sospensione temporanea di queste tassazioni che poi sono assolutamente inattuali, ormai da anni sarebbe già un bel respiro. Penso anche ai trasportatori che hanno investito in transizione ecologica sui mezzi LNG per esempio pensando di risparmiare mentre oggi il risparmio è praticamente inesistente perché siamo arrivati a dei livelli di costo delle LNG praticamente identici a quelli del gasolio. Grazie, grazie direttore per il suo intervento. Noi torniamo alle altre notizie della giornata. Netto calo della produzione industriale in Italia che a gennaio secondo l'Istat ha registrato una flessione del 3,4% su base mensile in tutti i principali settori di attività, scendendo inoltre di più di due punti in termini tendenziali attestandosi sotto i livelli prepandemici. A mandare in tilt i bilanci delle imprese, gli effetti dei rincari di energia e materie prime. Intanto a ridosso della giornata internazionale della donna l'analisi realizzata dalla direzione centrale della polizia criminale ha rilevato in calo i femminicidi negli ultimi quattro anni ma ha ancora in aumento gli altri reati contro le donne con una maggiore incidenza al sud. Meno femminicidi ma crescono nel quadriennio 2018-2021 i cosiddetti reati spia, stalking, maltrattamenti e violenze sessuali. Il dato emerge, fa sapere il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, da un'analisi realizzata in occasione della festa della donna dal servizio analisi criminale della direzione centrale della polizia criminale. I numeri, indica la Criminal Poll, confermano la necessità di riservare alla violenza di genere la massima attenzione. Non solo nella prevenzione e nel contrasto, ma anche nel supporto alle vittime e nelle campagne informative mirate a rimuovere quegli ostacoli socioculturali che, prevedibilmente, faranno sì che il fenomeno persista anche nel prossimo futuro. Gli omicidi volontari in assoluto consumati in Italia sono scesi dai 369 del 2018 ai 302 del 2021, con un calo del 16% in quattro anni, analoga alla flessione percentuale di quelli con vittime femminili. 119 lo scorso anno contro i 141 del 2018, ma si registra una tendenza in crescita rispetto al 2020 e al 2019. In diminuzione anche le donne uccise dal partner. Capitolo reati spia. Rispetto al 2018, i dati dello scorso anno indicano un aumento per stalking, maltrattamenti contro familiari e conviventi e violenza sessuale. Per quanto riguarda lo stalking, a fronte di un'incidenza media nazionale di 29,04 reati commessi per 100.000 abitanti, si registra un aumento del tasso, soprattutto nelle regioni meridionali. Veniamo ora alla situazione epidemiologica nel nostro paese con il Covid che sembra aver ripreso la sua corsa. Tornano a salire infatti i contagi con l'indice RT che si avvicina nuovamente all'1. Intanto prosegue la discesa dei ricoveri in area medica e dal 1 aprile, come dichiarato dal sottosegretario alla salute Andrea Costa, inizierà una fase di graduale allentamento delle restrizioni. Il Green Pass, ha affermato Costa, non sarà più necessario in alcuni locali all'aperto e si potrebbe arrivare entro l'estate senza limitazioni. Ma cambiamo argomento e parliamo ora di clima. È scattato l'allarme seccità al nord Italia, dove da circa 90 giorni non si registrano precipitazioni a fronte di un clima completamente asciutto. Inoltre con l'innanzamento delle temperature di circa 3 gradi più alte rispetto alla media febbraio si è confermato come il secondo più alto dal 1898. Intanto con l'obiettivo di ridurre l'impatto climatico si è tenuto nei giorni scorsi un incontro delle Nazioni Unite sulla riduzione della produzione e del consumo di plastica su scala mondiale. Negli ultimi 20 anni il mondo ha raddoppiato i rifiuti di plastica, ma dei 353 milioni di tonnellate del 2019 è riuscito a riciclare solo il 9%. Il resto è finito in inceneritori, in discariche autorizzate, bruciato a cielo aperto, finito in discariche selvagge o comunque abbandonato nell'ambiente, soprattutto nei paesi più poveri. L'allarme arriva dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, che lancia un appello per una soluzione mondiale coordinata. Un trattato internazionale sollecita il WWF. Il rapporto Global Plastic Outlook dell'organizzazione con sede a Parigi fa il punto sulla produzione di plastica, arrivata a 460 milioni di tonnellate nel 2019 e sulla gestione dei rifiuti, molto lontana dalla virtuosa economia circolare. Il consumo di plastica è quadruplicato negli ultimi 30 anni, trainato dalla crescita nei mercati emergenti, dice il rapporto, precisando che quasi la metà di tutti i rifiuti di plastica viene generata nei 38 paesi dell'Ocse. Ogni anno se ne producono a persona 221 kg negli Stati Uniti e 114 nei paesi europei. L'Italia ha ritardato più volte l'attuazione della tassa sugli imballaggi di plastica, rinviata ora al 2023. Tuttavia, il nostro paese è stato tra i primi in Europa nella lotta all'inquinamento, dal divieto di shopper di plastica per la spesa dal 2011 a quello dei sacchetti di plastica per gli alimenti nel 2018, al bando dei bastoncini di plastica e ovatta per usi genici nel 2019 e dell'uso di microplastiche nella cosmesi da risciacquo nel 2020. Via libera definitivo della Commissione Trasporti della Camera alle nomine a presidenti delle autorità di sistema portuali del mare di Sicilia orientale e del mare adriatico centrale. I commissari hanno espresso parere favorevole nei confronti rispettivamente di Francesco Di Sarcina e Vincenzo Garofalo. Nel mese di febbraio il mercato dei veicoli industriali ha registrato una leggera crescita pari al più 3,1% rispetto allo stesso mese del 2021. Il rialzo delle vendite è trenato dalla fascia di veicoli da 3,5 a 6 tonnellate, cresciute di oltre 100 veicoli rispetto allo scorso anno. Era questa l'ultima notizia della giornata, vi ringraziamo per l'attenzione e vi ricordiamo che manca solo una settimana all'Etexpo, la fiera più sostenibile dell'anno promossa da Alice che si terrà dal 16 al 19 marzo a Verona. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo come di consueto appuntamento domani alle 15 con il TG Flash e alle 19 con il TG News. LetExpo. Let's be sustainable. Green e blue economy per una vera sostenibilità ambientale, sviluppo dell'intermodalità sostenibile, inclusione, formazione giovanile e professionale per il mondo del lavoro di domani. Molto più di una fiera. Ti aspettiamo a Verona dal 16 al 19 marzo. Scarica il tuo biglietto omaggio su www.letexpo.it Scarica il tuo biglietto.